ciao a tutti benvenuti continuiamo con la potatura del nostro olivo vi ricordo è la potatura la seconda potatura quindi abbiamo fatto la riforma la scorsa stagione adesso continuiamo a raggiungere gli nostri obiettivi verso un vaso policonico ben fatto abbiamo il problema che purtroppo le punte non sono alla solita altezza ma questo lo andremo a correggere via via perché al momento non abbiamo disponibili altre soluzioni quindi ora le cose da fare sono togliere tutti i rami che vanno verso l'alto a parte chiaramente le nostre punte ed equilibrare la vegetazione un po su tutte le branche quindi direi che per il momento appoggio un attimino la forbice e la forbice telescopica andiamo a lavorare con la mia forbice allora partiamo da qua togliamo magari qualche rametto che tende andare verso l'alto senza esagerare vedete questo è un buon esempio vedete come questo tenta di andare verso l'alto quindi questo lo dobbiamo togliere altrimenti poi prenderà vigore e oltre a non fare olive andrà a insidiare la nostra punta ad esempio anche questo qua lo andiamo a togliere perché va troppo verso l'alto ok ora io tolgo solo quelli più grossi perché la potatura deve essere anche veloce non si può perdere troppo tempo in questo caso questa branca è quella tra quelle meno fitte quindi direi che si possiamo togliere solo questa puntina che insidia la nostra punta principale però non vedo grossi cose di succhioni che abbiamo qui sul dorso sono piccolini quindi li possiamo anche lasciare andiamo a vedere questa allora qua vedo che abbiamo un po di rami che tendono ad andare verso l'alto vedete ad esempio questo lo togliamo questo lo togliamo questo lo togliamo questo lo togliamo quelli che vanno proprio su dritti è bene toglierli quelli piccoli piccoli magari no li potete anche lasciare poi si tolgono il prossimo anno qua ci abbiamo dei succhioni sul dorso quelli orizzontali mai toglierli ma quelli verticali più vigorosi li vado a togliere ok di qua direi che ci siamo qui vedete non c'è molta vegetazione quindi non ho bisogno di farmi di crearmi luce quindi lascio stare visto che non ci sono nemmeno rami che vadano verso l'alto e direi che qua siamo a posto ora tolgo appena appena questi qua che vanno verso l'alto ma direi che non farei altro su questa branca poi andiamo a vedere un po di qui questi per ora li lascio potrebbero essere solo defogliati perché tanto sull'olivo anche se c'è un po di secco lo possiamo anche lasciare che non fa niente e anche qua diciamo che la branca è abbastanza spoglia quindi non voglio andare a esagerare col togliere cose non quando non abbiamo avuto un incremento di non abbiamo non vedo succhioni l'unica cosa vorrei sfoltire magari leggermente qualche ramo in alto accorciarlo perché così si può creare un po più di luce in basso quindi vado leggermente a sfoltire e accorciare i rametti un po più alti per permettere a questi di germogliare meglio comunque direi che qua ci siamo abbastanza non è non è così fitto da da dover sfoltire ulteriormente quindi passiamo a questa branca allora qua abbiamo vedete questi sono succhioni magari un po più grandi peccato questo era nato in orizzontale ma poi è andato su quindi io ci lascio un po di collare ci lascio un po di naso diciamo che magari ributta e posso crearmi una branca bassa questo è piccolino lo posso lasciare questo per ora anche qua vedete va verso l'alto quindi ci lascio un po di collare che magari mi ributta qualche succhione c'è qualche rametto orizzontale la solita cosa vale per questo e anche per questo un po meno ne lasciamo ok poi qua uguale abbiamo un succhione che è un po troppo vigoroso quindi lo vado a eliminare questi piccolini li possiamo anche lasciare non è un problema e direi che anche qua anche qua più o meno ci siamo non vedo non vedo grossi problemi non vedo particolari rami che prendano vigoria in alto quindi io qua lascerei così com'è vedete qua ad esempio questo punta leggermente verso l'alto ma visto che la vegetazione in questo caso è ridotta come abbiamo visto lasciamo stare quindi abbiamo fatto tutto il giro e forse qua abbiamo qualcosina ma tutta roba piccola io io lascerei così quindi diciamo che gli obiettivi della potatura di quest'anno li abbiamo raggiunti come avete visto abbiamo generato pochissima abbiamo tolto pochissimo la pianta quindi questa è una cosa positiva perché la potatura dopo il primo anno di riforma è stata veloce è molto semplice direi abbiamo ottenuto buoni risultati quindi ora aspettiamo e vediamo come va questa stagione mi raccomando iscrivetevi al canale mettete mi piace e ci vediamo a presto con altri video grazie a tutti ciao ciao